Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. A Trento, la premier Giorgia Meloni è stata accolta da contestazioni durante la sua partecipazione al Festival dell'Economia, in un evento intitolato Io, Giorgia e i dilemmi dell'Europa. Diverse manifestazioni si sono svolte nel centro storico, con un notevole dispiegamento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza. All'arrivo della Meloni in via Marci, non c'erano solo giornalisti ad attenderla. I cortei hanno scandito slogan come governo Meloni, governo dei padroni, governo Salvini, governo di assassini, esprimendo forti critiche all'attuale esecutivo. All'entrata del teatro sociale, la premier è stata accolta da un timido applauso, subito sovrastato da urla di protesta come Meloni torna a casa e assassina. Parallelamente, in via San Pietro, un gruppo di manifestanti ha affrontato il massiccio schieramento delle forze dell'ordine all'ingresso di Piazza Italia. Gli slogan dei manifestanti includevano richieste di liberazione per la Palestina e critiche alla Nato, con frasi come Palestina libera. E per le guerre della Nato né un soldo né un soldato. Questi cori riflettevano il malcontento verso le politiche del governo e la solidarietà con le cause internazionali. Evidenziando un clima di tensione e contestazione durante la visita della premier.